Innumerevoli portali si aprono dunque sul campo di battaglia, tutti tornano in campo per l'ultima grande missione, affrontare All for One e finire questa storia una volta e per tutte. Ognuno espone qui le proprie motivazioni, scopriamo di più su All for One in questo momento e la coreografia dello scontro è forse la più incredibile mai vista in My Rock Academia finora, finché anche lui non torna in battaglia, Deku. Benvenuti dunque nell'analisi del capitolo 421, guys, stavo imitando Present Mic da questo capitolo, capitolo che effettivamente si apre forse nel migliore dei modi e tra l'altro lo avevo predetto nei commenti del video precedente, ragazzi, arrivano tutti, arrivano letteralmente tutti i compagni di classe della prima lada di Deku che possono ancora combattere, arrivano tutti gli eroi e nella prima pagina noi vediamo proprio i ragazzi della prima andare a esporre le proprie motivazioni per essere tornati in battaglia. C'è chi ancora può combattere oppure c'è chi come Caminari dice io sono qui perché non ho ancora visto i miei compagni di squadra, i miei compagni di classe, i miei amici combattere. Va bene Caminari, va bene. E in ogni caso a seguito di questa scena si pone una delle splash page più belle, secondo me, di Mairo Accademia. Si apre, Mairo Accademia, titolone centrale, titolo del capitolo di oggi, noi siamo qui. E' dannazione, porca vacca, e così mi fate emozionare alla seconda pagina. E anche loro lo dicono, anche loro lo dicono. Adesso va tutto bene. Noi siamo arrivati, bellissimo, con tutti i portali dietro, loro che escono, ma quindi chi è arrivato? In realtà li vediamo un pochettino tutti, i ragazzi della prima ha fatto eccezione per Bakugo e Ochako. Di fatti vediamo Momo, vediamo Caminari, è arrivato anche Oyama insieme ad Agakure, è arrivato Kirishima, è arrivato anche lui. Quindi a questo punto spero che ci sia anche Shinzo in un qualche modo. Sono arrivate Froppy e, come si chiama lei, Giro, che avevamo predetto all'interno dello scorso video, ma le sorprese non sono finite qui, perché arriverà anche qualcun altro di interessante che non ci aspettavamo. Io non mi aspettavo, ma porca vacca che entrata stupenda che hanno fatto. Dunque noi siamo qui e adesso ragazzi questa è la nostra missione finale, All for One, ti dobbiamo abbattere. Ed ecco che, dall'altro lato, arrivano finalmente anche alcune delle motivazioni che hanno spinto All for One a tornare. Allora, la spiegazione che Mairo Accademia ci ha dato, no, fino a questo momento circa il ritorno di All for One, è stata proprio Tu, Deku, passando i quirk dell'All for One, del One for All, e su questo poi dopo ci torniamo perché c'è qualcosa che non torna su questo One for All, hai in un qualche modo aperto quella crepa nella quale io mi ero nascosto. E una cosa che mi piace particolarmente andare a pensare circa il ritorno di All for One è spiegato proprio magari dal male dentro, no? Il male è un qualcosa che torna, che torna e che sempre tornerà e quindi anche All for One, in quanto incarnazione del male, si era nascosto ed è tornato attraverso Shigaraki. Questa è una mia interpretazione, prendetela molto alla larga. Ma qui All for One ci dà un'altra motivazione. Non solo si era nascosto, questo era il suo ultimo piano, il suo asso nella manica, ma c'è stato un qualcosa di più. Perché ciò che ha aiutato il suo ritorno, il suo risveglio, è stato anche il dolore. Il dolore di sentire le vestigie di Yoichi svanire una volta e per tutte. Di fatto All for One ha perso l'unica, l'unica cosa alla quale aveva sempre tenuto. Ed è stato il dolore a risvegliarlo. Ed è questo dolore che All for One dice provare, che non solo genera dei nuovi attacchi adesso in All for One, che si prepara effettivamente allo scontro, dicendo che è forse anche un po' patetico andare a combattere contro così tanti eroi feriti da lui stesso, ma ci pone anche la base per il ritorno di qualcuno e per un gran bel discorso di Zero. Zero che sapevamo doveva avere un'entrata in scena incredibile e l'ha avuta, ma qui diciamo che Orikoshi sensei va in un qualche modo a rincarare la dose di epicità per questo personaggio che dice, io forse, mio caro All for One, non ho avuto la tua stessa vita. Però una cosa la so, ovvero che la vita è fatta di alti e bassi, ma solo allenandosi tutti i giorni, solo migliorando se stesso tutti i giorni in una direzione che vada ovviamente verso il bene, verso il miglioramento di sé e della comunità, ecco che è quel miglioramento a farmi crescere e a farmi stare bene. È normale provare dolore, ma questo dolore ci deve aiutare in un qualche modo a crescere, a diventare migliori e io dicessero questa cosa l'ho fatta giorno dopo giorno, tu invece ti sei lasciato in un qualche modo abbandonare, ti sei lasciato magari anche abbindolare da quest'idea del potere e dell'essere l'uno a comando di tutti così per poter essere felice, stare bene e tutto quanto, per poter stare bene con te stesso, ma la vita non è così. E adesso noi dunque siamo qui tutti per combatterti, per, diciamo, mantenere, per preservare la nostra quotidianità, la quotidianità che di fatto è volta al bene, no? Tu vuoi imporre una dittatura mondiale, ti vuoi imporre da solo. E qui All4One dice, sì ma adesso non ha nemmeno più tanta importanza, perché? Perché c'è questo dolore che mi sta scavando nel profondo, voglio finirla qui, voglio finire la battaglia e poi si vedrà. Ma è ovviamente una cosa che gli eroi non possono lasciare che accada e infatti due enormi portali si aprono adesso ai lati di All4One. Raga, e da essi escono Shoto ed Endeavor. Ma che state dicendo? Io non me l'aspettavo minimamente. Escono Shoto ed Endeavor che con, non mi ricordo che mostra santo cielo, emozionatissimo oggi, che con due Flash Fire First combinati di fatto mettono momentaneamente fermo All4One. Ma raga, Shoto ed Endeavor sono a pezzi e Sero rendendosi conto di ciò aveva in realtà già elaborato un piano, no? Sero, Sero aveva tutto sotto mano. E quindi con i suoi nastri va poi ad afferrare Shoto ed Endeavor che vengono, diciamo, messi da parte. Dio bene, la vostra entrata in scena epica l'avete fatta, Shoto finalmente torna, torna Shoto, torna! E ragazzi, qui ci viene anche spiegato il perché sono tornati. La temperatura corporea di Endeavor steso a terra, mezzo morto, dove l'avevamo lasciato a Gunga, era troppo alta! E rimanendo lì, ricorreva comunque pericolo. Doveva scaricarsi, doveva combattere ancora! E quindi, giustamente, Mick e Aizawa lo sono andati un attimo a recuperare e Shoto si è unito a loro, mentre Natsu ha aiutato i civili. Comunque, la situazione a Gunga capiamo che si sta risolvendo. E qui, in questi tre piccoli pannelli finali della vignetta, arriva anche Present Mick, che io ho imitato all'inizio video, perché dice, guys, oggi è il giorno in cui poniamo fine a tutto e questa è la nostra ultima missione! Dobbiamo abbattere All4One! E qui c'è una tavola bellissima, una splash page, dove All4One da inizio, finalmente, ha il suo contrattacco con questa combinazione di quirk incredibili che danno vita, comunque, ad uno dei suoi attacchi preferiti, ovvero quelli con gli spuntoni. A All4One piace infilzare la gente, manco fosse Vlad di Balacchia, praticamente. E qui vediamo la combinazione, l'attacco combinato di vari eroi che noi ben conosciamo, ovviamente. Vediamo numero 13 arrivare a bordo di Hound Dog e confondere All4One con i portali neri. Poi arriva Gangorca, che noi sappiamo essere un riferimento a Omagadoki Dobutsuen, a Kresizo, l'opera precedente di Horikoshi. Quindi arriva anche lui, abbiamo visto Astro nel capitolo precedente. Oggi torna Gangorca, che, vedendo Astro, ragazzi, è veramente, diciamo, il portavoce, il portabandiera di Kresizo, di fatto. Quindi, Horikoshi, bello, comunque bellissimo, veramente, che prenda le sue opere precedenti e che le porti all'interno della battaglia. E poi arriva anche Burnin, insomma, che è la tipa dell'agenzia di Endeavor. Insomma, assistiamo ad una scena nella quale gli eroi cercano, in un qualche modo, di prendere tempo. Cioè, l'obiettivo, comunque sia primario, in questa prima fase della fase 3, è prendere tempo. E anche Kendo lo dice, perché torna anche lei, entrando in battaglia e spostando il punto di vista di tutto questo scontro proprio su Izuku. E qui, secondo me, si apre la parte più controversa del capitolo. Ora, già nei video precedenti, anzi, nel video precedente, abbiamo visto che c'erano un po' di punti negativi. Allora, la narrazione in questo 421 è migliorata tantissimo. Non ho niente da dire, ma c'è un controsenso, secondo me, enorme, sul One for All. Deku, infatti, vuole unirsi anche lui allo scontro, cerca di rialzarsi, ma non ce la fa. E cade di nuovo a terra. E qui, Aizawa chiede, no, un po' di spiegazioni. E Deku dice, io non sento più il One for All. O meglio, sento una fiaccola, sento una fiammella, sento l'ultima fiamma che nasce dalla brace, proprio come era accaduto a Camino per All Might. Sto perdendo One for All, ma qualcosa dentro, dentro c'è ancora. E anzi, Deku parla proprio di una sorta di fuoco. Una sorta di fuoco che brucia ancora, che arde all'interno. Anzi, dov'è il dizionario che guardiamo esattamente la traduzione? No Kori Higa Arimasu. Una rimanenza, un fuoco residuo, c'è ancora dentro di me. Quindi si parla proprio di fuoco residuo, Deku, per quanto riguarda il One for All, ed è la stessa cosa che noi abbiamo visto esattamente all'interno delle vestige di All Might durante la battaglia a Camino. Bel momento di approfondimento, Giappo. Qui dunque Aizawa dice di aver capito, le sue espressioni facciali non parlano chiaro in questo momento, Aizawa è concentratissimo sullo scontro, e dice guarda, ok, facciamo del nostro meglio, adesso tieni questa maglietta, e raga, Aizawa dà la maglietta che il civile nel capitolo scorso gli aveva dato da dare a qualche eroe. Ed è una maglietta di All Might. Quindi Deku davvero number one fan, di All Might si mette la maglietta, e la riconosce, dice cavolo, questa è una delle cinque magliette in edizione limitata che davano per un periodo. E qui cerca di rialzarsi, ma non ce la fa, finché non arriva lui. Finché non arriva Oyama che gli tende la mano. In una scena che si pone ovviamente come parallelismo a quanto fece Deku, no? Quando Oyama rivelò, tra virgolette, di essere lui la spia dell'Uyuei, quindi Deku che si commuove tantissimo, Aizawa che lo prende, e con le grida dei civili che haipano un botto. All'interno dei dormitori, vediamo infatti prima di arrivare alla scena finale conclusiva, su cui poi parliamo del perché tutta questa cosa di Deku sia controversa, vediamo tutti. Vediamo tutti urlare Vai Deku! Forza Midoriya! Vediamo urlare Deku-san! Vediamo come si chiama lui, Kotaku, a urlare Midoriya Oni-san! Insomma, un sacco di roba. Finché non arriva anche Gran Torino, che dice, e il capitolo si conclude su queste sue parole, che dice, Deku, metticela tutta! Deku, gambare! E qui, come tavola finale, noi assistiamo ad un Deku che corre, con questa fiaccola, finale, con questo residuo finale del One for All che corre verso All for One in un parallelismo stupendo a quello che era accaduto nel primo capitolo con Deku che, cioè, Deku non importa niente se c'è il One for All o meno. Lui si fionda contro il nemico e lo ha fatto contro il mostro melmoso e lo fa contro All for One. Qual è la differenza? E la differenza c'è. La differenza c'è perché qui arriva, secondo me, uno dei problemi più grandi di questo finale di My Hero Academia. Voi vedete, io mi emoziono, My Hero Academia mi piace, ma riconosco anche i problemi o le controversie. Noi abbiamo passato gli ultimi dieci capitoli con Kudo che ci diceva sì, sì, dai lì pure i Quirk di Oph perché intanto passando i Quirk la forza del One for All rimane intatta. Quindi Deku cosa ha fatto? Non ha mai passato il One for All a Shigaraki ma ha passato i Quirk del One for All. Ha passato la capacità di trapassare Quirk ha passato il Gearshift ha passato il Fajin ha passato il Danger Sense no, quello vabbè gli è stato rubato Danger Sense togliamolo dall'equazione ha passato il Quirk di Banjo il Black Whip ha passato lo Smoke Screen il Float è buono perché questi erano i Quirk però non ha mai passato il One for All e allora la mia domanda qui sorge spontanea perché Deku sta perdendo One for All se per tutti questi capitoli c'è stato detto che donando i Quirk la forza rimaneva la stessa cioè a me sembra una cosa più che chiara dire questo vuol dire che Deku alla fine manterrà la super forza come All Might non vuol dire che sta perdendo il One for All o no ho capito male io a sto punto comunque come avrete notato ragazzi il pattern di questo finale è molto simile a quello del secondo film a quello del secondo film che si dovrebbe chiamare Hero Rising se non erro in questo momento e raga a me come situazione piace mi aspetto adesso dunque anche il ritorno in battaglia di personaggi magari come Mirio Mirko e magari Bakugo e Ida non sarebbe male così da avere veramente una battaglia finale contro il singolo nemico che possono battere tutti insieme alla fine se ci pensiamo è più o meno la stessa cosa Deku sta perdendo ufficialmente One for All nonostante io non riesca a capire questo senso questo filo logico sinceramente quindi abbiamo Deku che sta prendendo One for All abbiamo un tutti contro uno e quindi io mi aspetto un'azione finale vera e propria proprio come è stato contro Nine anche se io ho fatto la stessa identica mossa ma soprattutto mi aspetto una cosa ecco se Deku deve perdere il One for All diciamo che lo accetto ma ci deve essere una scena ci deve essere la scena di All Might che arriva piglia Deku morto a terra e gli dice hai fatto un ottimo lavoro sfruttando appieno il One for All proprio come è stato nel finale di Hero Rising ecco almeno dateci quello dateci quella come scena o no ora la prossima settimana non è pausa ma è pausa nel senso che è in pausa la rivista sulla quale viene pubblicato My Rock Academia perché la settimana prossima in Giappone c'è la Golden Week una settimana di pausa di festa totale nazionale quindi la rivista non viene stampato pubblicata qualcosa di spoiler potrebbe trapelare dunque vediamo se trovarci già con l'appuntamento venerdì prossimo oppure tra due venerdì detto ciò come sempre raga io vi aspetto qui sotto nei commenti con le vostre opinioni su questo capitolo eccezionale ciao 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 ciao